L'esasperazione e la rabbia la fanno da padrone. Siamo al viale della Vittoria di Agrigento, teatro della vicenda, dove oltre 50 persone, tra proprietari e commercianti della zona, sono stati costretti ad abbandonare le loro proprietà a causa del crollo che ha colpito due settimane fa i due palazzi Crea, rendendo la zona impraticabile. Persone sfollate dalle loro case che si sono assiepate dietro le transenne con l'intenzione di entrare dentro le loro abitazioni per recuperare alcuni beni. Gli agenti della Polizia Municipale presenti in gran numero li hanno bloccati, invitandoli a mantenere la calma e a munirsi di autorizzazione per accedere alle palazzine evacuate e qualcuno in momento ha perso le staffe, prendendosela pure con il comandante dei vigili urbani, Cosimo Antonica. Da giorni custode il giudiziario dell'area posta sotto sequesto dalla Procura della Repubblica di Agrigento che stava organizzando i turni per far accedere le persone in casa. Un paio di minuti in tutto dove la situazione ha rischiato di assumere una brutta piega, poi fortunatamente ha prevarso il buonsenso ed è tornata la calma. Nel giro di tre ore tutti hanno potuto entrare nelle proprie abitazioni e recuperare i propri oggetti personali. Ai proprietari delle case, così come ai titolari degli esercizi commerciali e studi professionali, è stato inoltre comunicato che a partire dall'inizio dei lavori nella parte del viale, al massimo tra una decina di giorni, non sarà più possibile accedere all'interno dell'area recintata fino a cessato bisogno. A giorni sarà completata l'installazione del cantiere con l'arrivo dei mezzi materiali. Si sta cercando di anticipare i tempi e l'accelerata è dovuta alla precarietà del pendio franato. Seppur vero che è stato bloccato e deviato, il flusso dell'acqua verso valle. Bisogna constatare che altre porzioni di argilla e terra sono pronte a scivolare in basso. Una squadra di tecnici ha prelevato alcuni campioni di acqua dai tubi che dall'alto della collina da giorni scaricano il liquido dentro alcuni tombini che sarà analizzata per accertare la provenienza.